Un centro di fusione comunicazione, importante che qualora succeda qualcosa c'è subito una base radio che emana notizie, informazioni e perché no, anche consigli da dare a chi purtroppo vive la vicenda o il brutto momento. Sono diverse in verità le motivazioni che ci hanno spinto ad avere qui un centro di comunicazione in emergenza perché per prima cosa questa è sede COC per il comune e COM in caso di emergenza e quindi mi pareva giusto che la cittadinanza o le cittadinanze interessate potessero ricevere in modo immediato tutte le indicazioni e le informazioni che venissero dai componenti del COC o del COM. Quindi grande cosa. Non c'è in Campania ancora nessuna organizzazione né pubblica né privata ha fatto una cosa del genere. Faremo anche dei corsi di formazione anche per i volontari perché impegniamo anche tutte le associazioni ambas e non ambas che stanno sul territorio. Perché se c'è un'emergenza a San Marzano o a Sant'Egidio ci sono le associazioni del posto che con la nostra collaborazione daranno le indicazioni ai loro concittadini. E' un susseguirsi di interventi. Io sono veramente felicissimo che la sala operativa che noi abbiamo creato stasera venga potenziata. Affrontiamo un'altra tappa di questo cammino che abbiamo intrapreso insieme. Abbiamo dimostrato insieme a Michele Pepe e ad un'altra decina di associazioni, di organizzazioni che è più facile creare rete nel volontariato che nel pubblico. E questo per noi è un fondo di grande gioia. Anche il volontariato richiede qualità, qualità negli interventi. Grazie.